Il prossimo drink in costruzione si chiama invece Down the Cimney Significa letteralmente giù per il camino, per il sentore affumicato che presenta Vado a raffreddare il mixing glass 45 millilitri di vermouth cocchi storico 20 millilitri di liquore a base di erbe e spezie su base brandy Uno spoon di crema di cacao e vaniglio Gocce di bitter E uno spoon di whisky scozzese Whisky dall'isola di Islay, quindi notoriamente torbato Misceliamo raffreddando come sempre In una coppetta sempre vintage, ma in questo caso con un chunk di ghiaccio al suo interno Per mantenere la temperatura più fredda Decoriamo con una fettina di arancia essiccata È il drink più impegnativo forse della lista, è un po' più complesso E quindi consigliamo l'abbinamento con un pandoro, con un semplice pandoro Grazie via noi Grazie a tutti